Sedeva con la schiena rivolta alla porta. Ogni volta che si apriva lui era scosso da un sussulto. Che ci fai qui? Parigi è sorvegliata, non potrai partire. Devi farmi un favore. Consegna queste lettere da parte mia. Sono per Beidel. Beidel lo scrittore. Dove vai? A Marsiglia. Si mise a cercare un albergo dove potersi riposare e nascondere. Non hai permesso di soggiorno. Ma io non voglio restare. Sì, ma deve provarmelo. Sta dicendo che potrei restare solo se riesco a dimostrare che non ho intenzione di restare. L'indomani avrebbe consegnato al Consolato Messicano le cose dello scrittore. Sperava in una ricompensa e poi qualcosa sarebbe accaduto. Beidel lo scrittore? Sì. Ci deve essere un malinteso. Non c'è un collegamento diretto con il Messico. Le servono i visti di transito. E finalmente la vide. Il cappotto nero elegante, le scarpe raffinate, il passo indolente. Lui mi ha dimenticata. Chi? Lo scrittore. Osservava Maria Rishar seduta nel locale. Lei aveva voltato la testa. Quasi sentisse che lui era lì. Mi prende la cura di te. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog. Blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!